Questa è sufficiente. Adesso, appena appena, proprio poco, dovresti alzare un pochino il viso, così, ancora un pochino, un attimo, pesca. Cerca un punto da guardare che non sia troppo alto. Ok, così, perfetto. Alza un pochino il viso, per favore, così. Scusami, perché ferma così male. Devi scusarmi, scusami. Adesso, appena appena, appena, gira il viso verso di me, poco. Così, viso leggermente più alto, per favore. Invece un pochino più a tua destra, più in profilo il viso. Ok, così. Alza proprio, alza. No, il viso, esatto, così. Un attimo. Scusami, vediamo la luce. Scusami, dopo andiamo avanti e te le faccio vedere. Bellissimi. Grazie.